Gentili telespettatori, buona giornata. Non si può lasciare la scena solo a Conte Draghi. Anche Salvini vuole farsi notare oggi, vuole emergere, vuole far vedere che lui c'è. Questa è una caratteristica che ha anche Renzi, Salvini, quel superio molto sviluppato, quel voler essere sempre al centro dell'attenzione. Lega Salvini dice di essere stupito da Draghi sul fisco. Perché? Dice che siamo stupiti dal discorso del presidente Draghi. Nessun accenno alla flat tax e alla pace fiscale, nonostante 50 milioni di cartelle esattoriali già partite o in partenza che rappresentano un'emergenza nazionale. Caro Salvini, le cartelle esattoriali in partenza sono dovute al fatto che un certo numero di italiani non ha pagato quello che doveva pagare. Quindi Salvini è stupito perché Draghi non parla di condono fiscale. E' inutile chiamare pace fiscale evocando chissà quale. Qui si parla di condono in salsa elettorale. Cioè ci sono 16 milioni di italiani a cui sono state inviate le cartelle esattoriali. Se io insisto nel bloccare queste cartelle, cancellarle, fare una pace fiscale, come dire dai mettiamoci una pietra sopra, tu mi dovevi 7 mila euro, fa niente. Non ti preoccupare, non ci pensare più, dormi tranquillo, tu fai il tuo, io faccio il mio. Ecco, questa è la pace fiscale, un condono, un condono, solo che vicino alle elezioni che siano anticipate o a marzo, riuscire a fermare le cartelle esattoriali per 16 milioni di italiani su 46 milioni di elettori, capite che è una bella percentuale. Ed è lì che lui insiste perché lì spera di recuperare tanti voti, con la sua pace fiscale che non è nient'altro che un condono. Te lo condono, come dire, mi devi dei soldi, fa niente, lascia perdere, amici come prima. Ma i condoni che cosa portano? Il condono porta a aumentare questi comportamenti. Se voi sapete che ogni tot anni arriva il politico che cerca voti e vi fa il condono, allora voi che fate? Non pagate aspettando che arriva il primo politico che cerca voti e vi fa il condono. Quindi un condono incentiva questo tipo di comportamenti. Naturalmente all'interno di queste cartelle esattoriali c'è chi è fallito perché la pandemia gli ha fatto chiudere il locale. Ci sono situazioni anche comprensibili. Ma attenzione, la legge non è discrezionale. Cioè la legge non è che dice ma tu mi dispiace, tu non mi devi niente, però tu invece sì, tu me li devi dare. Non può essere discrezionale. La legge deve essere uguale per tutti. Quindi se voi non avete pagato qualcosa allo Stato, indipendentemente che voi, caspiterina, avete perso il locale per cause, oppure invece è un fallimento dovuto ad altri fatti o chissà non avete potuto pagare per un motivo serio o l'altro non ha potuto pagare perché si è comprato la macchina nuova. Non può essere, la legge deve essere uguale per tutti. Non può essere ah no, tu fa niente, però tu invece me li dai. No. Se ci sono dei soldi da pagare, lo Stato non può dire ah no, tu no, tu sì, tu no, tu non lo so, ci devo pensare. Se si deve pagare qualcosa, si deve pagare. Il condono non si fa di principio. I condoni non esistono. E se per Salvini fare il buono facendo la pace fiscale per raccattare voti, a me questo non piace per nulla. Ecco, non piace per nulla. Ovviamente a quei 16 milioni interessa, dice speriamo che Salvini riesce a fare cancellare questa cartella esattoriale che sto aspettando. Capite? Da una parte abbiamo i grillini con il voto di scambio e il reddito di cittadinanza. Abbiamo il PD che ci prova a fare il voto di scambio con tutte le sue leggi che vuole approvare. Anche, ti ricordate, i 10.000 euro ai diciottenni che non hanno potuto andare in classe, hanno fatto la DAD, allora diamogli 10.000 euro. No, mi ricordo che cose un po' strane. Perché? Perché per la prima volta adesso voteranno i diciottenni anche al Senato. Se voi non lo sapete, al Senato si vota solo da 25 anni in su. Se andate a votare a 18 anni vi fanno votare solo per la Camera dei Deputati. Per il Senato no. Con la nuova legge elettorale, una nuova legge che ha cambiato così la Costituzione, si vota a 18 anni sia per Camera e per Senato. E sono 4 milioni e mezzo di voti in più. Ed era per quello che Letta cercava anche lui il suo voto di scambio. E a Salvini che resta? Quelli hanno i loro voti di scambio o ci provano? Noi ci proviamo con le cartelle esattoriali. Pace fiscale, così tutti quelli che hanno dei problemi col fisco mi voteranno sperando che io poi gli cancelli i debiti con lo Stato. Salvini è deluso perché Draghi non ha parlato di flat tax. Ma Draghi quando cavolo mai ha parlato di flat tax? Quando mai avete sentito dire a Draghi che gli interessa fare la flat tax di Salvini? Quando mai? Lui è stupito perché non ha parlato di flat tax. Ma cosa vuol dire? Ma perché doveva parlare di flat tax in un discorso per la fiducia? Mi sembrano delle cose veramente che non stanno né in cielo né in terra. Poi dice che il passaggio sul credito di 1.100 miliardi di magazzino fiscale che l'Agenzia delle Entrate ha nei confronti di cittadini e impresi ci lascia perplessi. In questo momento di gravi crisi economica con l'aumento delle bollette delle materie prime e anche alimentari cosa si chiede? Di rimborsare subito? Se non bastano pandemia per un rinnovato patto fiscale tra cittadini, fisco e agenzie delle Entrate cos'altro dovremmo aspettare? Lo dichiarano i deputati della Lega. Bitonci, capogruppo di qua e di là e Gusmeroli, vicepresidente Commissione Finanze responsabile Unità Fisco del Dipartimento Economia della Lega. Insomma, niente, la Lega punta sul far cancellare le cartelle esattoriali di milioni di persone in modo da prendersi il voto. Io rimango dell'idea che se c'è da pagare si paga. I condoni non vanno bene perché invogliano poi a avere certi comportamenti perché tanto prima o poi arriva qualcuno che mi fa il condono per motivi in salsa elettorale. E vabbè, insomma. Che vi devo dire? Ognuno poi penserà a quello che vuole. Naturalmente tutti quelli che hanno le cartelle esattuali cosa dici? Cosa dico? Cosa dico? Dico, dico. Altro che cosa dico. Dico, dico. Arrivederci a tutti. Dico, dico. Terima di nuovo. Grazie.